Ciao ragazzi sono me fa, bentornati in questo nuovissimo video di Limbo Un gioco che tempo fa avevo portato nel canale Che poi non ho voluto continuare per svariati motivi Ma quest'oggi siamo qua su Limbo Voglio proseguire questa serie perlomeno finirla perché l'avevamo lasciata in sospeso Allora ragazzi, prima di tutto però prima di partire vi lascio ad una clip Di una parte di un gameplay che ho registrato ieri Che poi per svariati motivi ho dovuto stoppare la registrazione Quindi raga, eccoci qua su Limbo Ok Che è successo? Ho premuto CTRL a caso raga Non so come sia Ah, capito E certo adesso Ah, probabilmente Bisogna fare così Così Ah, ecco come si faceva raga Cioè vi giro sono stato millenni a capire come si poteva mettere Non c'ero mai arrivato Comunque andiamo avanti Ah, adesso vabbè Dobbiamo per forza Fare così Non so cosa posso cambiare Cos'è che bisogna fare qua? No, aspettate Torniamo un attimo indietro Se no raga Facciamo una roba più semplice Allora, questa la mettiamo qua Va bene così? Ok E facciamo così Giusto? Perfetto Adesso facciamo così E così Fin qua stiamo andando benissimo Ok, forse no Ok Ce l'abbiamo fatta finalmente Perfetto Ho fatto questo La situazione diventa un po' più semplice teoricamente Scusate se parlo poco Ma raga Questo è un gameplay E non sempre riesco a Ah, perfetto Quindi facendo così Riesco a far passare questo Ci sono stato millenni Non avevate idea Cioè io raga Non riuscivo più a salire di livello No, ho fatto una cabolata Bella Allora Facciamo così E adesso diventa complicato Però prenderlo con un po' di fortuna Col cavolo Ci è andata male Dai Sì ce l'ho fatta Che soddisfazione Non avevate idea Ci ho messo E dove mi sta portando? Ah Ok Spero di farcela A buttarmi dall'altro lato Ma penso di sì Con un po' di fortuna Ce l'ho fatta Appena arriva vicinissimo Ok Forse no Ho sbagliato Questa qua è più grossa Perciò teoricamente Non dovrebbe prenderci Quindi No Non è vero Sono morto male invece E Tipo mi cadesse qua No Muoio Che stupido Ah Ho capito Ho capito Niente Dobbiamo morire Datemi solo un attimo Ok Fatto questo Direi di passare al gioco Eravamo rimasti qua Non posso più scendere Se non muoio E basta Non voglio darvi dimostrazioni Perché vi assicuro Che così Allora dobbiamo fare in modo Che la seconda Vada sopra alla prima In modo tale Da poter salire là Perché se no Troppo forte Ok Ci siamo Dai 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 Forza 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 No che cavolato ho fatto Raga per poco L'ho portata troppo avanti Ma c'eravamo E' molto complicato Questo livello Potrei anche metterci Tantissimi minuti A superarlo Probabilmente Vi taglierò le parti Sì Ce l'ho fatta Non ci credo Non so come sia possibile Ma andiamo avanti Vi prego Voglio andare avanti Ce l'abbiamo fatto raga Qua diventa sempre Più complicato E Ok Meglio salire Forse Fatto questo Ah forse ho capito ragazzi Dobbiamo salire sulla vespa O sull'ape Quell'insetto Che poi ci porta là sopra Secondo me Dobbiamo semplicemente Avvicinarci No cavolo Ce l'abbiamo fatta Ragazzi Ce l'abbiamo fatta Era qua Era qua che volevo arrivare Perfetto E adesso Perché questa musica è così inquietante Cosa succede adesso Quello che non capisco Ah Bisogna tipo Ok Far muovere quella In modo tale Ok perfetto Il problema È che poi non so cosa possa succedere Cavolo Ah no giusto Dobbiamo giustamente salire prima qua sopra Una volta arrivati qua Vediamo un attimo cosa succede Ok Questo non mi sembra un problema Non so nemmeno se era da saltare Ma non importa E adesso Non so cosa bisogna fare Nei ragazzi Dai 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 Ce l'ho fatta Miracolo Incredibile Incredibile ma vero E adesso E sempre da una diversa postazione Perché ora sono Alla mia casa al lago Scusatemi se questo video Comprende tantissimo Clip Clip Ma ho avuto diversi problemi Detto questo Passiamo al gioco Se solo si caricasse Ok perfetto Riprendi E iniziamo Allora eravamo arrivati qua Perfetto Questo clip L'avrete già anche vista Dal video scorso Però siccome Avevo sospeso Il gioco Allora Mi ha rimandato lì automaticamente Allora Torniamo indietro Va bene Fin qua dire Tutto facile Adesso dobbiamo cercare un modo Per tirare Quella scatola lì Giù E poi saliamo là E teniamo la ruota Quindi per farlo Ecco Dobbiamo fare un'ora del genere Però In maniera molto più Efficace No cavolo L'intenzione era quella però Ok Allora in questo caso Vediamo se lo scendiamo Per sopra Ecco Esattamente questo Scusate ragazzi Sono arancione Dovrò mettere La color correction Però Ok E adesso Ok E questo Dove è che mi porta adesso? Ah Dobbiamo andare lì sopra Ho capito Allora Adesso niente Andiamo qua Vediamo un po' che succede Fatemi solo vedere No dobbiamo Per forza Adesso ho capito raga Dobbiamo prendere la panna È un casino adesso Dobbiamo fare in modo Che la scatola Vada là Traverso la ruota Poi dobbiamo fare salire La scatola Sopra Con le scale E poi dovremo Teoricamente farcela Il che non è facilissimo Ma non deve essere Nemmeno troppo Complicato Secondo me Ecco Qua volevo arrivare Non ho capito Adesso Ah Ho capito ragazzi Ho capito Certo È la scatola Che deve stare ferma Eh Allora Facciamo così Allora Esatto E adesso No Non è vero Scusate Adesso io Com'è che posso Fara salire Qua sopra Non lo so Ah No Scusate Così muoio E basta Ah Quindi tu mi fai Proprio ripartire Da qua Ah ma sono due Le scatole Ma certo Certo Ora mi chiamo Ok Adesso Allora Facciamo così Tiriamo giù Anche l'altra In questo modo Dovrebbe Ok Finora Ce l'abbiamo fatta Una qua sopra Magari E l'altra Lì ci può andare Secondo me Ok Anzi Direi farò Dall'altro lato In modo tale Da E adesso Teoricamente Dovrebbe Essere fatto Perfetto Ragazzi Perfetto Non farmelo Rifare No No Non farmelo Rifare Ok Grande Ci prendiamo Una rincorsa Sì Ci è fatta Ci è fatta Ok Non so come abbia fatto Ma direi di Rosseguire No Cosa c'è qua Ok E adesso Sto andando Non so dove Aiuto Cosa sta succedendo Tutto il rec Saperlo prima Ma magari Sì Che musica Inquietante Ok Dai che non veniamo Schiacciati Ci siamo Perfetto E adesso Però io Non vedo Niente Raga Non vedo Niente E adesso Ah ok O sarà meglio Di no Spero Non mi faccia Partire da capo Almeno Devo provare A darmi Lo slancio Da qua Oddio Sono troppo curioso Aspettate un attimo Che Ok Ce l'abbiamo fatta Perfetto Era proprio Questo Che dovevamo Ancora No ma ti prego No Ah cavolo No Ah non dobbiamo Andare Di nudo Ecco C'è L'elettricità Incappi Dai Ok Ci siamo Dobbiamo stare Di a due Come ho fatto Ce l'ho fatta Ragazzi E adesso Ancora No dai Ti prego Basta O no Ecco Che arriva La palla Ecco Come pensavo io Infatti Come adesso Possiamo fare Ce l'ho fatta Non è possibile Ok E qua invece Spero Una ragazza Come è possibile Ok Adesso niente Dobbiamo per forza Continuare di qua Ok Abbiamo cambiato Direzione Oh mio dio Ah c'è Non vuoi far morire Allora Non sono pronto Ecco Dai No Prepochissimo Ragazzi No però C'è dai Non è possibile No Facciamo una cosa Siccome mi sta morendo Il computer Ancora un po' Perché si sta Surescaldando E tra un po' Si interromperà La batteria Oggi 8 dicembre Devo caricare Questo video Meglio interrompere Quale gameplay E andremo avanti La prossima volta Quindi spero Che vi sia piaciuto Se così forse Spolciate Commentate con i biglietti Iscrivetevi al canale Se ancora non vi è arrivato Ragazzi Siamo a 180 Mancano 20 e 200 Speriamo di arrivarci Il più pronto possibile Noi ci vediamo Al prossimo video Comunque è tutto Ciao ragazzi